Una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania ha lavorato nella giornata di giovedì a Bogonia per mettere in sicurezza la torre campanaria della chiesa di Santa Marta nel centro storico del paese. La struttura ha subito danni nei mesi passati a seguito di un fulmine. I pompieri dopo un accurato sopralluogo hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza della croce e del basamento in pietra che cadendo avevano pure compresso parte del tetto e della struttura portante dell'edificio. Una squadra di pompieri del comando di Verbania con tecniche SAF ha lavorato per 4 ore calando in completa sicurezza da un'altezza di circa 20 metri il basamento pesante circa 150 kg. La copertura del tetto realizzata con piode è stata rimossa dai vigili del fuoco per evitare danni al fine di effettuare altre verifiche di stabilità del campanile e del tetto della chiesetta le vie confinanti con l'edificio religioso nei prossimi giorni saranno interdette al traffico e ai piedoni.